Buonasera, buonasera grazie, buonasera sulla 7 famiglia d'Italia, buonasera Il conduttore che riesce a citare Shakespeare anche al supermercato Ma non è vero, non è vero, non cito Shakespeare, l'aggiustatore Lei mi saprebbe citare Shakespeare anche così, a tradimento, me ne dica una, me ne dica una Beh, se parliamo di atrimento, Iago e Otello, guardatevi signore dalla gelosia, è un mostro dagli occhi gialli Bene, quanta cultura, io chiuderei qua Ne so tre o quattro E in vecchio se ne vanno, meglio, meglio, ma una cosa che mai potrei dimenticare è che i campioni sono loro